Eviterei di tirar fuori dal cilindro il coniglio della città metropolitana che ormai sta diventando buono per tutte le cose. Tra un po' ci sentiremo dire che con la città metropolitana Trieste avrà uno stadio come San Siro. Ultimamente a Trieste risulta difficile fare 2000 spettatori allo stadio Rocco. Dotarsi di un impianto come San Siro sarebbe del tutto fuorviante. Ma al di là di queste considerazioni, ciò che chiedono i cittadini è la cura della propria città. Dagli spazi verdi alla mobilità, dall'edilizia alla manutenzione degli asfalti. Lo sa bene il sindaco Cosolini, lo sa bene e non ha bisogno di richiami all'attenzione da parte di terze persone. Specie se una di queste è proprio il concorrente alle primarie di domenica. Molto ha giocato il patto di stabilità che come ricorda il primo cittadino è stato un freno a mano per gran parte degli interventi pianificati dalla Giunta. Io so che il senatore russo non mi ha mai chiesto dei problemi con il patto di stabilità. So che il senatore russo dovrebbe sapere benissimo, essendo un parlamentare della Repubblica, che fino al 2014 praticamente noi siamo stati bloccati. E credo sia visibile lo sforzo che è stato avviato a partire dalla fine del 2014, partendo dalle scuole e poi continuando con strade marciapiedi. Ce n'è tanti da fare e quindi è vero, ne abbiamo fatto tanti e ce n'è tantissimi da fare. Ma sicuramente non c'è alcuna distrazione, non c'è alcun ritardo, c'è una programmazione. Abbiamo anche pubblicizzato i nove diversi lotti marciapiedi che via via vengono messi in funzione.